Silati i gironi per la prossima stagione di Serie A2 Unipolsa e rinascita al Lago Negro dal bianco passa al blu e rispetto allo scorso campionato incontrerà nuove compagini. Si prospetta un'annata di lunghi viaggi per i biancorossi. A parte gioia del Colle e Taviano entrambe in Puglia, gli uomini di Falabella dovranno affrontare le squadre del centro e nord Italia. Una bella differenza rispetto alla scorsa stagione quando la trasferta più lontana è stata quella di Siena. Ad attendere gli uomini della rinascita, tra le altre Bergamo, Cantù, Bolzano, Brescia, solo per citarne alcune. Le uniche squadre conosciute che i biancorossi affronteranno saranno Tuscania e Club Italia. L'avvio di stagione è previsto per il prossimo 24 settembre con le 23 squadre che si presentano raggruppate nel girone bianco e nel girone blu. Le due divisioni sono state costruite con il criterio della serpentina basato sul ranking. Dalla federazione, infatti, fanno sapere che il criterio di classificazione ha messo in fila le formazioni dello scorso anno in ordine di piazzamento regular season. La classifica che concludeva la pool promozione e la pool salvezza 2017, seguiti dalle promosse dalla serie B in graduatoria, dai ripescaggi con precedenza al Club Italia e infine dalle due società che hanno acquistato il titolo. Iniziando a dividere le squadre partecipanti dalla prima testa di serie, Emma Villassiena nel girone bianco e dalla seconda, Monini Spoleto nel girone blu, ecco la composizione. Per la prima fase il campionato vedrà una giornata di riposo solo per le squadre del girone bianco, formato da 11 club. Sul versante mercato, invece, dall'inizio della settimana i valnocini hanno messo in cassaforte l'arrivo di ben due centrali che si uniranno alla corte di Falabella, Tommaso Fabi e Riccardo Copelli, entrambi classe 1996, entrambi provenienti dalle giovanili di due templi del volley, Macerata e Modena. I due si affiancheranno all'esperto Capitan Giosa, il volley mercato però non si è ancora concluso, ci vorrà il 19 luglio per la chiusura e per conoscere il calendario e la formula completa del prossimo campionato.